La riabilitazione per eccellenza. Dottor Davide Bisogno, fisioterapia e riabilitazione. Via Starza 27, Cava dei Tirreni. Info e appuntamenti al 349 45 29 128. Dopo la sconfitta di Terni, la Cavese rischia sempre più di retrocedere in Serie D. La squadra, nelle battute iniziali di quella gara, ha avuto difficoltà perché ha avuto paura di non farcela portare a casa l'eventuale risultato utile, che avrebbe potuto permetterle di alimentare qualche speranza in più di salvezza. Invece i gol incassati, soprattutto nel primo tempo dell'ultima gara, hanno avuto il potere di stendere la Cavese, che qualcosa di più positivo ha combinato nel secondo tempo, quando la Ternana aveva un po' allentato la propria concentrazione. Maiuri, tornato ad allenare i Biancoblu dopo tre mesi e mezzo, ha ritrovato una squadra modificata rispetto a quella che aveva lasciato a dicembre dopo l'esonero, quindi ha avuto pochissimo tempo a disposizione per preparare la gara con la Ternana e tatticamente ha potuto fare ben poco, ma certo avrebbe voluto vedere qualcosa di meglio sotto il punto di vista caratteriale. Si può sempre fare di più. Invece la squadra, come un pugile che ne ha prese tante durante la stagione, è crollata. E ora, la prossima giornata del campionato di Serie C, la quart'ultima, potrebbe per i Biancoblu essere determinante in ottica play-out. Domani pomeriggio c'è Palermo-Vibonese, poi domenica ci saranno le gare Cavese-Teramo, Monopoli-Paganese e Bisceglie-Virtus-Francavilla. I meteliani dovranno cercare di vincere e soprattutto sperare che la Vibonese non abbia fatto punti a Palermo e che il Francavilla vinca a Bisceglie. Solo così la squadra di Maiuri potrà ancora sperare di restare in C. Le speranze sono minime e svaniranno matematicamente se gli Aquilotti dovessero perdere due partite, ma anche uscire battuti in una sola partita potrebbe costare la retrocessione se il Bisceglie vincerà. Comunque il turno si presenta molto difficile per la Vibonese, che dovrà far visita a un Palermo che è reduce dalla brutta sconfitta patita nei minuti finali a Monopoli e la formazione rosa-nero avrà bisogno di punti per insediarsi finalmente nella zona play-off. Sarà difficile anche per la Paganese, che giocherà sul campo del Monopoli, che battendo proprio il Palermo si è rilanciata per fare qualcosa di importante anche oltre la semplice salvezza. E qualora la Cavese dovesse battere il Teramo riuscirebbe a sua volta a mettere pressione al Bisceglie e anche alla stessa Virtus Francavilla, che dovrebbe fare assolutamente punti per evitare il coinvolgimento nella zona play-out. Intanto, in questi giorni, i tifosi organizzati della Cavese su Facebook hanno ricordato Angelo Senatore, l'imbianchino noto a molti come Popov, scomparso un anno fa a 46 anni a causa del Covid-19. Fu una delle prime vittime a Cava dei Tirreni per questo virus. Era noto per il suo attaccamento alla squadra sportiva metelliana, che sosteneva soprattutto dalla curva.